Noi come Snalve Confsal abbiamo manifestato le nostre criticità alla prefettura e alle aziende di quanto sta succedendo. Si è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo di 302 operatori a tempo indeterminato e successivamente si penserà a una riacquisizione, ma non di tutti i lavoratori, solo in parte. E noi qui interveniamo affinché possiamo limitare questo danno già in un luogo martoriato dalla crisi lavorativa eccetera eccetera. Abbiamo chiesto sia alle aziende sia alla prefettura dei tavoli urgenti di concertazione affinché si possa trovare una soluzione al più presto di respiro per tutti quanti. Il licenziamento collettivo fa parte della prassi perché quando un'azienda cambia l'appalto i lavoratori devono essere licenziati per poter passare nell'altro appalto. I rischi concreti non ce ne sono perché sia il nuovo codice degli appalti fatto dal governo Cera Renzi che prevede che negli appalti pubblici deve essere inserita obbligatoriamente la clausola sociale cioè i lavoratori passano dall'azienda ad un'altra. Peraltro questo è stato ribatito non solo richiesto da noi organizzazioni sindacali ma la prefettura che ci ha detto che già a prescindere dalla nostra richiesta aveva inserito nel nuovo capitolato d'appalto la clausola sociale. Quindi su 302 lavoratori 302 passeranno dall'altra parte. Almeno il diritto ce l'hanno tutti a 302. Il problema casomai che si porrà in maniera drammatica fra qualche mese è poiché il nuovo capitolato d'appalto prevede una riduzione dei servizi perché gli ospiti non dovrebbero essere fino a un massimo di 4.000 ma fino a un massimo di 2.800. quindi il problema che si porrà in maniera drammatica è se salvare tutte 302 ad orario ridotto ma dobbiamo sottolineare che già tante persone di queste sono a 24 ore e quindi che cosa bisogna ridurre non si capisce bene oppure non lo so, mandare gente a casa è una scelta comunque difficile che il sindacato assieme ai lavoratori dovranno affrontare. Ci auguriamo che in questa partita anche le amministrazioni comunali facciano la loro parte che sicuramente faranno nel tentativo di trovare soluzioni alternative che oggi non sappiamo quali sono però di concerto con le amministrazioni, con la prefettura con le organizzazioni sindacali e tutti vediamo di dare una risposta ad un territorio che già di per sé non è all'apice come sviluppo a livello europeo una situazione del genere sarebbe un dramma ancora più pesante che noi vogliamo e dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare.